379 è questo il numero degli incidenti avvenuti a Cremona nei primi sei mesi del 2024 rilevati dalla polizia locale. Uno ha avuto esito mortale, uno conferito in prognosi riservata, 131 conferiti e 246 senza. Nel mese di marzo se ne sono verificati 81. Tra le cause principali 88 sono da attribuire alla velocità, 43 ad una mancata precedenza e 48 manovre azzardate. Noi rileviamo circa, ma al contato, il 90% dei sinistri occorsi nel comune di Cremona. Purtroppo il dato non è in miglioramento, il dato è sostanzialmente costante, cioè il primo semestre ci restituisce una fotografia sostanzialmente analoga alla prima metà dell'anno precedente. A Cremona uno degli elementi scatenanti o che aggravano o che proprio costituiscono elemento che provoca il sinistro è il tema della velocità o meglio del suo eccesso. Abbiamo poi fenomeni legati all'omessa precedenza e a fenomeni, diciamo così, legati alla distrazione. Questo della distrazione o, come ora viene definita, la tecnodistrazione, cioè una distrazione dovuta essenzialmente all'utilizzo in debito di o telefoni cellulari oppure computer di bordo. Le vie più pericolose sono via Castelleone, via Mantua, via Bergamo, via Seminario, via Dante, via Milano e la tangenziale in generale. Quello che tengo a precisare è che il perimetro dell'attività del comando polizia locale nell'ambito di un sinistro è quello di ricostruire chiaramente gli elementi e ovviamente regolare quella che è la fluidificazione del traffico. Lo dico perché sono comparse giorni fa delle dichiarazioni che attribuiscono, merito a un sinistro corso con purtroppo un veicolo pesante che portava degli animali. Sottolineo che il compito della polizia locale ha questa funzione, quindi ricostruire, identificare i conducenti e fluidificare il traffico. Tutte le altre competenze, in questo caso che riguardano gli animali, ovviamente spettano agli organi tecnici. La politica come può intervenire per fronteggiare questa che comunque è un'emergenza? Visto che il primo indice, il primo elemento è la velocità, quindi i controlli sul territorio, quindi aumentare i controlli di polizia stradale. Poi al secondo e terzo posto abbiamo la manovra e la distrazione che comunque sono anche collegate tra le due. E poi magari intensificare i controlli anche con i nostri motociclisti per controllare tutte queste persone che vengono distratti da questi apparecchi radio-telefonici.